Sono otto tutti i ultras del Treviso Calcio e i denunciati per l'aggressione a un gruppetto di migranti avvenuta domenica 8 ottobre a Porto Gruaro. Quelli che erano solamente dei sospetti da parte dei carabinieri si sono concretizzati in otto denunce a piede libero depositate in procura. A riferirlo pubblicamente ieri nel corso della manifestazione di piazza organizzata in risposta a quell'episodio, l'associazione Noi Migranti, gli ultras arrivati in città per assistere alla partita tra il Treviso e la squadra locale, mentre si dirigevano in pizzeria avevano aggredito tre migranti di cui un minorenne. Alle loro identità gli investigatori erano arrivati grazie alle targhe delle auto viste fuggire dal luogo del pestaggio confrontate con quelle dei tifosi giunti nel pomeriggio allo stadio per la partita ed era stato subito chiaro che i responsabili, tutti i trevigiani, appartenevano alla tifoseria bianco-celeste.